La salvezza viene solo da Cristo in croce, non dalla nostra buona volontà, non dalle idee. Chi non guarda la croce con fede, riconoscendo che Gesù si è fatto peccato per guarirci dal peccato, non riceverà la salvezza e morirà nei suoi peccati. Lo ha sottolineato Papa Francesco nell'omelia della Messa del Mattino celebrata a Casa Santa Marta, commentando il Vangelo e la prima lettura proposte dalla liturgia. Il serpente di bronzo, sopra un'asta che Dio fa costruire a Mosè, perché chi è morso dai serpenti del deserto guardandolo possa guarire, è un segno della croce di Cristo, una profezia. Gesù si è fatto serpente, si è fatto peccato e si è fatto innalzare nella croce, ma prima, si legge nel Vangelo di Giovanni, ha detto ai farisei che avevano il cuore chiuso alla sua missione morirete nei vostri peccati e poi, quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono. La salvezza soltanto viene dalla croce, ma è questa croce che Dio ha fatto carne. Non c'è salvezza nelle idee, non c'è salvezza nella buona volontà, nella voglia di essere buoni, no. L'unica salvezza è in Cristo crocifisso, perché soltanto Lui, come il serpente di bronzo, significava stato capace di prendere tutto il veleno del peccato che ci ha guarito lì. Ma cosa è la croce per noi? Sì, è il segno dei cristiani, è il segnale del cristiano. E noi facciamo il segno della croce, ma non sempre lo facciamo bene. Dalle volte facciamo così, perché non abbiamo questa fede alla croce. Altre volte, per alcune persone, è un distintivo di appartenenza. Sì, io porto la croce per far vedere che sono cristiano. Sta bene quello. Ma non solo come distintivo, come se fosse una squadra. Distintivo di una squadra. Come memoria di quello che si è fatto peccato. Il nostro territorio è www.sobensos.com.br abbiamo diverso unνямone per la tua squadra.